Spunta un giorno Lo squallore dell'alba si è fermato a spettrale, ai vetri della finestra rimasta con gli scuri aperti, e pare che non abbia più forza da litare da lì nel buio della camera. A poco a poco comincia a diffondersi come un brulichio nell'ombra, e prima si impiglia nel trepunto lieve delle tendine, poi, quasi evaporando, traspare di tra le gretole rarefatte di una gabbiole che pende dal palchetto in capo alla finestra, nel mezzo, senza destare tuttavia il canarino accoccolato sul ballatoio. Poi, ecco, inoltrandosi, lambisce appena le gambe, l'orlo d'un cavolino nero davanti alla finestra, e grado grado si soffonde sul piano di esso, avvistandone quasi a tentoni gli oggetti. Alcune carte sparse, alcuni libri, una bugia di ferro smaltato, col bocciuolo d'ottone, in cui la candela si è consumata tutta. Una lettera suggellata, un'altra lettera, un cannello di ceralacca, un ritratto fotografico. Eh, chi ha quel ritratto? Uno spillone da cappello confitto nel collo. E ride? Sì, si può discernere bene. Il giovine, effigiato in quel ritratto, ride con aria spavalda, senza appunto curarsi di quello spillone confitto nel collo. E poi? Una rivoltella. Un braccio? Sì, è un altro braccio. È il capo scarmigliato di una donna. Morta? La squallida luce passa oltre, senza un brivido, a quella scoperta. Il capo rovesciato di quella donna non le importa più del trepunto di quelle tendine, più del legno del tavolino o del manico d'osso della rivoltella. Seguite a penetrare lentamente nella camera. Arriva alla parete, di contro alla finestra, e vi scopre un piccolo lavabo con lo specchio ovale a piede al letto. Il letto intatto, su cui sono buttati un cappellino, una vecchia borsetta di cuoio rosso, un ombrello, un libro. A un tratto il canerino si desta nella gabbiola. Guarda verso il cielo, piegando da un lato il capino giallo. Si rigira sul saltatoio con un breve squittio. «Buongiorno!» Le braccia, la testa della donna, rimangono abbandonate sul piano del tavolino. Tra i neri capelli scomposti, si intravede un orecchio, che pare di cera. «Bravo, sì! Puoi ridere!» «Che t'ha fatto, infine, questa donna, configgendoti nel collo lo spillone del cappello?» «Niente!» «Forse questa notte, mentre dormivi placidamente, ti sarai sentito pinzare come da un insetto costì nel collo e avrai alzato una mano a grattarti, seguitando a dormire e a sorridere nel sonno. Perché si vede, tu hai l'aria di non credere alla minaccia di un suicidio. Hai costipresso il capo abbandonato di lei. E ridendo, guardi altrove, come se ancora tu non creda che ella possa essersi uccisa veramente. Guardi lontano, tu. Sai che il mondo è vasto e che puoi facilmente trovare posto ovunque. Tu non hai nulla dentro che ti possa trattenere qua o altrove. Chi ha molta vita in sé, vita d'affetti e di pensieri, e la dispensa con amore anche fra le quattro pareti di una cameretta, può anche non avvertire più l'angustia materiale, perché quella cameretta gli viene dal mente tutto il suo mondo e non saprebbe più di staccarsene. Ma uno come te, senza ingombro d'affetti e di pensieri, dico di quelli che non si lasciano mettere da un momento all'altro nelle valigie per essere trasportati altrove, può viaggiare facilmente e trovare posto ovunque. Per te la vita è fuori. Questa camera è troppo impregnata ora dal lezzo nauseante del sego della candela bruciata fino in fondo. Tu non lo senti e te ne ridi, perché sei qua soltanto in effigie. Non lo sente più neanche lei. Forse lo sentirà il canerino. Guarda, lo sportello della gabbiole è aperto. L'avrà lasciato lei così aperto ieri sera, legato con un nastrino a una gretola per tenere lo scatto. Il canerino seguita a guardare, cotendo il capino giallo e saltendo il requieto da un regoletto all'altro. Non si è ancora accorto che lo sportellino è aperto. Se ne è accorto. Ecco che vi si affaccia. Allunga e ritira il capino. Pare che faccia le riverenze. O aspetta un invito per spiccarsi di là. L'invito non viene. E perplesso, di tratto in tratto, seguita a tentare quasi a bezzicar l'aria con brevi acuti squittii. Ed ecco, è volato verso il letto. Sul punto di posarvisi, si trattiene sulle ali come sgomento. Cade sulla rimboccatura del lenzuolo, intatta e composta sul panciale. Saltella, cercando, gemendo. Scende sul piano del letto, molleggiando. S'accosta alla borsetta di cuoio rosso. Spia due e tre volte e poi le allunga una beccatina. Un altro salto ed è sull'ombrello. Guarda di là più a lungo, smarrito. E via, di nuovo alla gabbia. Tu, dal ritratto, seguiti a ridere. Forse sai che illa aveva la gentile abitudine di lasciare aperto così ogni sera lo sportellino della gabbia perché poi la mattina quella cara bestiolina volasse a lei sul letto a un richiamo e ne saltasse di tra le dita. o le cercasse il tepore del seno o le mezzicasse le labbra o il lobo dell'orecchio. Giù per la strada si sente già lo struscio delle granate degli spazzini poi il rotolio di qualche carretto di lattaio. La luce è già cresciuta e vibra hilarandosi a mano a mano. Una mosca dalla vetrata della finestra vola sulla tenda e poi dalla tenda sulla spalla di lei. In due tratti corre sull'orlo del bavero del giacchettino incerta se saltare a posarsi sulla nuca e si scorge un po' tra i riccioli neri anch'essa come di cera. Rivola è sullo spillone che tu hai confitto nel collo scende lunghesso e ti viene in faccia ti lascia un piccolo neo sulla guancia e via. Ah, così con codesto neo sulla guancia ora tu sembri più carino. Segui da ridere caro. Curiosa quella mosca che vola curioso quel canarino che saltella tornato nella gabbia e quella gabbia che ne traballa in questa cameretta che si rischiara sempre più accogliendo la luce di un giorno che qua per il corpo di questa donna rovesciato sul tavolino non è più nulla. Quasi abbia preso una risoluzione il canarino trilla forte come per chiamare aiuto. Allora la testa di quella donna abbandonata tra le braccia sul tavolino si scuote. Chissà da quante ore lì curva la giovine stira la schiena ritira le braccia coi pugni serrati verso il seno e contrae tutto il volto sbattuto e scomposto con una specie di ruglio nella gola e nel naso. Ma subito forse per il lezzo nauseante di cui quella camera è impregnata insieme con l'orribile sconcerto dello stomaco di giuno le si desta non meno orribile la coscienza dell'atto non compiuto. Non si è uccisa finta dalla stanchezza nella disperazione dopo aver scritto le due lettere chinata la fronte sulle braccia prima di risolversi all'atto si è addormentata ora sbarra gli occhi alla vista delle due lettere suggellate e della rivoltella lì accanto la commozione si cambia subito in affanno di rabbia che la sospinge in piedi un crampo a una gamba un intorpidimento alle dita della mano destra ma nel mentre si stringe con l'altra mano quelle dita intorpidite e si prova col peso di tutto il corpo a premere sulla gamba che le spasima tesa per sciogliere il crampo gli occhi le vanno al ritratto sul tavolino con lo spillone confitto nel collo non sente più né il crampo né l'intorpidimento delle dita brandisce lo spillone e prende a tempestare di colpi furibondi la faccia del giovane lì effigiato finché non la trafigge tutta da non lasciarne più scorgere nulla e alla fine non ancora soddisfatta fa in pezzi il cartoncino sfigurato e scaraventa quei pezzi a terra omicidio e dispersione del cadavere è davvero stravolta dal furore con occhi da pazza va a spalancare la finestra reclina indietro il capo e sottchiude gli occhi per la pena che l'aria nuova le fa entrando a slargarle il petto oppresso in cui ancora il cuore le batte e le duole comprende che non può più restare lì sola con se stessa neanche un minuto con quelle due lettere suggellate e quella rivoltella sotto gli occhi corre al letto prende il cappellino e se lo cazza sui capelli scarmigliati la borsetta di cuoio che vi ficca dentro le lettere e la rivoltella esce dalla camera sul corridoio ancora buio come una ladra sta per aprire la porta e precipitarsi giù per le scale allorché una vociazza grida da un uso in fondo al corridoio ehi ehi signorina resta un momento perplessa in agguato poi con uno scrollo eroso apre la porta se la tira dietro scende a precipizio la prima rampa arrivata al piano rotto lo deve fermarsi perché è una donnaccia adiposa mezzo inuda affannata dall'adipe dal sonno improvvisamente interrotto e dalla corsa riaperta la porta prende a gridare dall'alto della ringhiera ah se ne scappa io mi vesto sa corro in questura ne pare che possono bastarmi quattro libracci e tre straccetti a garantirmi di cinque mesi di pigione corro in questura mi dovrebbe vergognare scapparsene via così come un cane che abbai fuori della botola a ogni domanda a ogni minaccia che avventa si butta avanti e si tira indietro e con le tozzemani sanguigne afferra non potendo altro la ringhiera mentre la vociaccia rimbomba dall'alto nel vuoto della scala ancora invasa dall'ombra e dal silenzio della notte neanche fiera d'aspetto la giovine ne rimane come schiacciata atterrita non sa più né fuggire né trovare la voce per darle una qualche risposta e farla tacere alla fine come costretta ha alcuni cenni per significare che si andrà dal vecchio domanda da su la voce col capo fa di si più volte e fatto questo segno come se ormai ne abbia diritto riprende a scendere la scala comodamente anzi cava dalla borsetta i guanti logoli per calzarseli mentre quell'altra subito ammansita si ritira dal pianerottolo borbottando meno male che sei persuasa come se come se o come se Grazie a tutti